Buongiorno a tutti, mi ha fatto piacere ricevere l'invito dell'ANDAF per portare i saluti. Sono giornate abbastanza intense perché sono ripresi i lavori di fine estate, ma ci tenevo ad esserci per due motivi, uno perché Verona è non solo numericamente ma per logistica e per sua natura la capitale del nord-est, visto che siamo la città più popolosa dell'intero Triveneto, ha una posizione logistica strategica dal punto di vista dei trasporti, della comunicazione, una città turistica, una città d'arte e spesso questo posizionamento l'ha portata a abbastarsi a se stessa, avete potuto godere la città e quindi il primo pensiero è cosa bisogna fare in questa città, è già bella di suo e questo tende a farci rilassare e penso che per il ruolo che avete potete immaginare cosa vuol dire per un'azienda abbastarsi quando il mondo cammina e quindi qualsiasi evento nazionale, qualsiasi organizzazione che sceglie Verona per trovarsi, per ritrovarsi, per pensare al proprio futuro, per pensare al proprio ruolo nazionale, internazionale colgo l'occasione per portare anche un ringraziamento perché grazie a queste presenze, alla presenza di tante persone, professionisti, donne e uomini che sono nella nostra società civile, dal volontariato appunto all'azienda che ci portano il pensiero esterno, ci aiuta a fare quello di cui Verona ha bisogno che è quello di alzare il sguardo oltre le mura della nostra città e prendere un po' di protagonismo e di responsabilità a livello nazionale, internazionale, io sono in amministrazione da un paio d'anni ma ho la convinzione che Verona sia una città europea ma non lo sia nel pensiero e quindi ogni volta che persone come voi vivono la città, ci confrontano, dialogano con i nostri cittadini portano una visione e anche un giudizio sulla nostra città, esterno ovviamente non fa che aumentare un granello alla volta questa nostra consapevolezza di cui dobbiamo farci carico e di cui noi come amministrazione stiamo cercando di incentivare a qualsiasi momento, quindi grazie a chi ha scelto Verona per questo congresso, grazie alla vostra presenza e mi auguro che insomma siano stati giorni molto intensi ma anche piacevoli nella nostra città. E l'altro tema, così il tema che è quello del vostro congresso di quest'anno, il tema dell'intelligenza artificiale, da dove stiamo andando, questo gioco che sicuramente sta cambiando e sta cambiando velocemente, che pone l'accento su quello che, al di là del fatto che ho avuto un'esperienza professionale in Cina, un detto cinese dice se vuoi far sorridere Dio racconta i tuoi programmi futuri, quindi al di là di questa incertezza comunque di questo futuro che sicuramente bisogna prevedere e governare ma che poi è futuro e quindi è quello che scopriremo e non governeremo. Ma questo tema dell'intelligenza artificiale che pone anche per noi in amministrazione in tutti i ruoli dalla scuola allo sport, appunto anche all'amministrazione, il mondo delle aziende e del fattore umano. Credo che questo sia uno dei temi grandi. Io per impegno familiare abbiamo un investimento sulla scuola, scuola intesa 014, quindi la formazione delle nostre future generazioni e delle persone. Credo che l'obiettivo di formare un approccio umanistico a quello che è il nostro vivere comune anche nelle aziende farà la differenza. Lo sta già facendo, lo farà ancora di più quando alcuni processi saranno governati dalla tecnologia, dai numeri, dalle macchine di calcolo, dall'intelligenza artificiale. La vera differenza la faremo anche in politica, come dicevo, al di là dei sondaggi, lo faremo con l'approccio di chi siamo e del perché siamo in questo ruolo e in questa società e quindi vi voglio portare questo nostro pensiero e nostra convinzione che anche in un ruolo come il vostro, spesso visto in maniera asciutta e forse a volte anche timorosa o comunque di grande attenzione rispetto ai numeri, alla carta, al calcolo. Ecco, la vera differenza la faremo tutti quanti investendo in quello che è il fattore umano visto che tra i relatori degli ultimi giorni c'era anche un grande atleta, paratleta Daniele Cassioli che ha segnato molto anche la mia esperienza, che è questo riconoscersi i talenti, riconoscersi, non so se vi ho portato l'esempio della cassetta degli attrezzi, che ognuno di noi ha i propri attrezzi e li deve far fruttare e mettere a fattore comune. Quindi io vi ringrazio per queste giornate che avete passato nella nostra città, ringrazio il Presidente, ringrazio il mio collega che seguirà e farà il suo intervento, Alberto, che sarà qui con voi e mi auguro che la vostra presenza abbia contribuito e contribuisca a quello che è il percorso che stiamo facendo come città, questo appunto di aprire lo sguardo verso il nostro ruolo di riferimento di quest'area geografica dell'Italia e a questo ruolo internazionale che come avete potuto vedere, insomma già lo siamo da un punto di vista turistico, ecco, dobbiamo fare un salto di qualità, io sempre per sintetizzare e per raccontare in metafore Verona, a che punto è, io dico sempre, Verona pensa in dialetto, ecco, dobbiamo pensare un po' di più aprendo lo sguardo e lo facciamo grazie alle vostre presenze, grazie a quello che lasciate sul territorio ma parlando col cameriere o visitando le nostre bellezze, raccontandole, quindi grazie e davvero vi aspettiamo di ritorno a Verona quando avrete, spero, l'occasione anche di venire a lavorare nelle nostre aziende ma anche con le vostre famiglie, quindi grazie, buon lavoro, io purtroppo vi dovrò lasciare non solo per altri impegni istituzionali ma anche perché e qui viene il gioco di squadra, oggi abbiamo programmato, non a caso, cioè non volutamente ma quasi a caso, insomma, questo giorno di fine estate, inizio ottunno, un incontro di maggioranza, diciamo così, quindi tutti i consiglieri, assessori, tutti quelli che fanno parte della nostra maggioranza e sono stati eletti e hanno partecipato alla costruzione di questa amministrazione e ritrovarsi e ritrovare quel fattore umano che dicevo prima, che farà la differenza e fa la differenza anche nell'amministrazione della città perché la città cambia se i cittadini cambiano e i cittadini cambiano se è una squadra di motiva e gli dà quel perché che tutti noi cerchiamo nelle nostre attività, quindi grazie e buon lavoro. Grazie a lei.